benvenuti ragazzi qui con voi è il vostro nico di pokemon quest'oggi andremo a spacchettare ma cosa andremo a spacchettare andremo a spacchettare il nuovo set destino splendente e cominceremo con un bellissimo set allenatore di ivy v max e ricordiamo che qui dentro c'è anche la sua pruma bene non perdiamo altro tempo andiamo bene cominciamo ad aprire questo bellissimo set allenatore davanti è bellissimo questo è veramente puccioso vediamo il dietro che ci ricorda l'interno della confezione e ora non aspettiamo altro apriamo sfogliamo e come sempre troviamo la guida sfogliamo un po per vedere le novità questo bellissimo ivy v max ci sono alcune ristampe in questo set che poi magari andremo a vedere se troviamo qualcosa andiamo alle carte più cicciotte del set di cui le shiny come ben vedete ci sono parecchie nuove full art allenatore e tantissime carte shiny e alla fine abbiamo le due gold black e il charizard v max bene svuotiamo il nostro bellissimo set allenatore qui abbiamo la guida poi abbiamo come sempre le togliamo questo se no un casino abbiamo la bellissima promo di ivy v max stupenda abbiamo i nostri separatori poi abbiamo pacchetto di energie che non manca mai le bellissime sleeves con ivy sopra stupende poi il codicino che vi regalo al più veloce abbiamo come sempre i dadi di questo colore molto particolare diciamo riprende ivy ma non sono proprio belli segnalino di bruciatura e veleno e le nostre bellissimi 10 pacchetti di destino splendente con i suoi bellissimi 4 artwork bene io direi di spostare tutta quest'altra roba cominciamo il vero e proprio spacchettamento cominciamo con questo bellissimo cornite shiny vediamo un po che cosa ci lega questo bellissimo pacchetto e abbiamo facciamo clic codicino per voi 1 2 3 4 e abbiamo energia lotta scudo rovinato da click tricks eldegos snow mor pico cacnea ciu cito spinarec amazing di ca yogre cominciamo benissimo questo spacchettamento carta stupenda a mesi in caiogre è la olografica froz mot cominciamo benissimo questo spacchettamento mettiamo il nostro bellissimo caiogre amazing qui insieme a ivy e continuano con il secondo pacchetto comincia davvero benissimo questo peccopini con un bellissimo caiogre amici ricordiamo che ci sono altre nuove a mesi in che in questo set secondo pacchetto e secondo codicino per voi 1 2 3 4 vediamo energia acqua twinkie cramorant rotom gru key buizel ian mega ian ma ian mega l'evoluzione trapinch shinks reverse di ordini del capo è la rara un red no continuano terzo pacchetto per noi che non si vogliono aprire codicino 1 2 3 4 vediamo un po energia psico allenatore della palestra twinkie ancora cramorant cacnea ci guato ivy in questo bellissimo ortoburg nikit orsi lasciani di drizzo bellissima e la rara è un un celebi bellissimo drizzo shiny ecco la nostra prima shiny di questo set bellissima andiamo avanti col prossimo pacchetto vediamo per ora niente male in tre pacchetti una shiny e una mesi vediamo cosa lo vediamo nei prossimi pacchetti come sempre codicino per voi 1 2 3 4 chiamanti energia metallo luxio spada rovinata questa bellissima carta ballino nuovo allenatore che fa cercare due tre diverse carte con scritto bolle nel nome ivy ancora gossy fleur ian ma snow cu fan la rivers di sciuato e la rara è una bellissimo cremorant v max abbiamo anche trovato una v max e sì c'è anche lui in versione v max bellissima andiamo avanti prossimo pacchetto che non si vuole aprire come sempre e vediamo ricordiamo codicino per voi trick 1 2 3 4 e cominciamo energia acqua tropius cramorant ancora spada rovinata questa buona non serve 4 per orsi ian ma ancora morpico cofing gossy fleur la rivers di tropius e come rara abbiamo cinderace v una ristampa del set scudo e spada ma comunque è una di quindi buon per noi andiamo avanti sistemiamo un po qua il macello prossimo pacchettino per noi codicino per voi 1 2 3 4 energia buio allenatore della palestra asciugamano del timiel frozel orsia kufant shuato yanma morpico gossy fleur rivers e la rara una ricerca accademica con nuovo artwork bellissima ma andiamo avanti quarto ultimo pacchetto vediamo 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 se troviamo qualche altra shiny ricordiamo il codicino per voi 1 2 3 4 energia erba eldegos luxio baldino trapinch snone gruchi spinarack shinx la reverse di spada rovinata è la rara è un wheezing di color olografico non male queste diverse ma il wheezing meno abbiamo ancora tre pacchetti che non si vogliono aprire figurati ce l'abbiamo fatta togliamo questa ricordiamo questo questa volta al contrario così due tre quattro e andiamo speriamo energia lotta da tricks cromorant spa scudo rovinato non spada scudo rovinato more pico nick ivy che nuota ancora grossi fleur she with all la reverse di ballino e la rara è un bellissimo a selby ma niente di che andiamo con il penultimo pacchetto anzi no questo c'è saluti nell'ultimo apriamo il corne penultimo pacchetto vediamo un po cosa andiamo a trovare vediamo un po se riusciamo anche a salvarlo niente non abbiamo codicino per voi uno due tre quattro avanti e via energia psico ballino spada rovinata eldegoss coughing morpico orsi spinner raulet ristampa sempre di scudo e spada zaruda reverse e la rara un ditto v bellissimo questo ditto ricordiamo che c'è anche il v max e di entrambe le carte c'è la shiny almeno abbiamo trovato una b in questo pacchetto bene andiamo con l'ultimo pacchetto con charizard v max e non lo vogliamo che sia aperto in una maniera assurda bene vediamo se questo porterà bene o male codicino per voi non per me per voi uno due tre quattro e andiamo con questo ultimo pacchetto energia fuoco allenatore della palestra twerking cramorant buizel shinks coughing trapinch raulet shiny di colossal bellissima shiny di colossal e la rara un bellissimo cremorant bene almeno abbiamo trovato v e v max di qualcuno ma ricordiamoci questo bellissimo colossal shiny vediamo un po' cosa abbiamo trovato di shiny in questo set allenatore abbiamo trovato colossal shiny drizzle shiny e kaiogre amazing poi abbiamo ancora ditto v cinderis v cramorant v cramorant v max e vabbè ovviamente la promo di ivy un bottino niente male ma poteva andarci bene io direi ci rivediamo in un prossimo video se vi è piaciuto mettete un like se vi va iscrivetevi al canale non costa niente e nessuno vi obbliga quindi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi grazie